Sono Pierluigi Adorisio e sono qui come presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Ancona. Vorrei parlarvi brevemente della genesi di questo progetto che purtroppo nel suo iter organizzativo ha avuto una battuta d'arresto come ben capite a causa del Covid. L'idea ha una origine multifocale, gli ordini provinciali delle Marche, l'istituto zooprofilattico Umbria Marche ed è il risultato di un incontro tra le esigenze del territorio e quelle dei colleghi medici veterinari. Dentro a questo lavoro ci sono l'esigenza di informazione, formazione ed aggiornamento, la volontà di offrire ai neolaureati un ventaglio di percorsi professionali che si discostano dai tradizionali che abitualmente percorrono. Ed infine vuole essere un tentativo di favorire quell'osmosi tra vecchie e nuove generazioni che un tempo si verificava con affiancamento di un vecchio collega ad un giovane. Anche questo, cioè quello di fare incontrare vecchie e nuove esperienze, è uno dei compiti degli ordini.